Adesso si può sparmare però, vado avanti e mi sposto. Adesso ho cambiato mia vita, non sono più davanti, quindi invece di andare a cambiare la mano, ho fatto un altro cambiamento, mi sono spostato, non ci sono niente. Costringe l'altro a girare e a mettersi in giro. E ricominciamo. Lui viene avanti, io vado avanti, cambio direzione, lui mi segue e io tolgo. Il cambio di direzione può essere fatto solo quando sono avanti e può andare di qua, oppure di qua. E ad esempio sempre un cambio che ha in sé ciò che avete fatto con me, ciò che avete fatto questa mattina. Quindi non cambia di direzione, così. Nel caso, cambio di direzione con cambio di polarità. Se vuoi sono il tempo.